Buongiorno a tutti, sono Rocco Argentiero, organizzatore del campionato Gincane 2014 e sono contento di iniziare già questo rapporto con voi amici e concorrenti per quanto riguarda appunto il campionato 2014. Abbiamo già fatto due gare, la prima quella di Fasano, la seconda di Policoro e sono contento nel vedere tanti ragazzi nuovi, finalmente c'era bisogno di cambiamento, bisogno di aria nuova, al che che se ne dica contro ogni pronostrico che dicevano appunto che qualcosa non dovesse andare bene, problemi che abbiamo avuto nell'ordine organizzativo tutto. Comunque sono contento, ripeto, più che altro per quanto riguarda i nuovi giovani che sono loro, diciamo, il futuro di questa manifestazione, di queste Gincane. Che dire, abbiamo un po' rivoluzionato il tutto rispetto agli anni passati, come premiazione abbiamo portato dal quinto come assoluto e siamo andati al decimo assoluto. Appunto c'è aria nuova, persone nuove, concorrenti nuovi, location nuove che è fondamentale. Stiamo coinvolgendo i comuni della provincia di Matera, la Lucania, appunto la Puglia. Stiamo andando anche verso le province di Bari, che sono importanti come crescita personale per quanto riguarda il campionato. Del resto, ripeto, voglio solo un po' di partecipazione in più dei concorrenti dove andiamo nei posti nuovi. Solo quello, un invito ai posti, non che ci sia qualche concorrente di questi posti nuovi. Altre cose, non c'è più niente da dire, un in bocca al lupo a tutti i nuovi partecipanti e un arrivederci alla prossima Gincane, che sarebbe quella lì di Castellana Grotta, appunto il 29 giugno 2014, di domenica. Ok, un arrivederci e grazie.